Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta pandistelle facilissima. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono biscotti pandistelle, latte, lievito per dolci e per decorare crema pandistelle e stelline di zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il lievito ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4. Aggiungere il latte ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4. Trasferire in uno stampo da 24 centimetri ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Decorare con crema pandistelle e stelline di zucchero. Torta pandistelle facilissima grazie e alla prossima ricetta Grazie per la visione.